Consideriamo a pieno titolo dei fossili anche i resti di organismi vegetali. Qui siamo di fronte a una foglia che, caduta su un sedimento, è stata completamente inglobata. Si osservano ancora le nervature, ma non è stata completamente pietrificata perché si vede comunque la differenza tra il colore della foglia e il colore del sedimento. Quindi qua siamo di fronte a una fossilizzazione di pietrificazione ma non rimineralizzazione del campione. Questa invece è un'altra foglia che però si è fossilizzata attraverso il processo di carbonificazione. Cioè i minerali, le molecole biologiche che componevano le strutture cellulari della foglia sono state, durante il seppellimento della fossilizzazione, sostituite a favore di più concentrate quantità di carbonio. E in effetti l'aspetto che ha questo stampo della foglia su questa roccia è proprio quella di essere un pezzo di carbone. Ci sono moltissimi resti fossili vegetali, addirittura tronchi, foreste pietrificate, ma anche intere pigne pietrificate e stampi di fiori o anche semplicemente di foglie di felci.